Bella a tutti ragazzi, eccoci qua in GTA Online, guardate un po' il giorno di Natale la Rockstar ci ha fatto questo piccolo regalo su tutta Los Santos nevica e le macchine non tengono una cepa, però c'è in giro gente in costume da bagno, in maniche corte, pantaloncini corti, nevica, guardate che figata qui c'è qua il mio fuoristrada rosso e niente, volevo salutarvi tutti, guardate qua anche io sono Babbo Natale che porto i doni ai bambini cattivi, a quelli buoni invece no, solo ai bambini cattivi di Los Santos attenzione arriva Babbo Natale, via via mi tiene una cepa il mio furgone e niente ragazzi, voglio soltanto farvi vedere appunto questo, questa cosa, per chi non lo sapete le macchine di GTA Online il giorno oggi, 25 dicembre, giorno di Natale, hanno implementato che su tutta Los Santos snevica e devo dire la verità che le macchine reagiscono molto male sulla neve, come potete vedere anche il mio fuoristrada 4x4 ha dei problemi e niente, però vabbè la gente comunque se ne sbatte perché se andiamo tipo in spiaggia c'è gente che comunque sta sdraiata in spiaggia anche con questo tempaccio qui adesso non ci sono in giro molti pedoni perché è tipo, è tipo, è tipo è tipo le 22 però, ecco ecco, vedete c'è gente comunque in giro in in pattaloncini, vabbè ok ragazzi, vi saluto merda, stronzo fatemi salutare, fatemi salutare ciao raghi